Musica Vacanze al mare, in montagna o all'estero, dati positivi, ma anche quest'anno non mancano i rincari su trasporti e alberghi. Ci sono stati dei rincari rispetto alla scorsa stagione? Purtroppo sì, sia a livello di pullman che biglietteria aerea e di conseguenza poi tutti gli alberghi perché comunque sia è aumentato tutto. Sorpreso e amareggiato, Luciano Cecchini replica le dichiarazioni dell'assessore Lucarelli sulla credibilità di alberghi consorziati e ne chiede una rettifica per tornare a collaborare uniti per il bene del turismo fanese. Riforma dell'ambito sociale, il primo no politico all'organo monocratico arriva dai socialisti. Il 18 e il 19 luglio a Candelara è in programma il Galà di Beneficenza, Romagna nel cuore, due serate all'insegna della musica e della danza, presente anche una mostra fotografica. La Fano dei Cesari è pronta per Baccanaglia e la sfida delle frazioni, domenica in diretta su Fano TV, la finale spettacolare della Fano Infortune con la pompa magna e la corsa delle vighe. Attesi duemila figuranti nell'anello del pincio, il sindaco vieta l'utilizzo del vetro e dei fuochi d'artificio. Con nove giorni di festival, 45 concerti, 200 musicisti provenienti da tutto il mondo e diverse location, torna l'evento musicale Fano Jets by the Sea. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Apriamo parlando dell'estate che entra nel vivo, non mancano le consuete vacanze all'estero, al mare e in montagna. I dati sono positivi ma anche quest'anno si registrano rincari importanti. Vacanze al mare, in montagna o all'estero, ma anche quest'anno sulle ferie estive non manca l'ombra dei rincari. La bella stagione entra nel vivo e con l'ausilio delle agenzie viaggi è possibile tracciare un primissimo bilancio. L'estate sta andando bene, nel senso che noi abbiamo avuto tante prenotazioni, le persone si sono mosse in anticipo, finalmente hanno capito che il prenotaprima aiuta soprattutto a risparmiare e a trovare posto perché comunque sia ancora la disponibilità dei voli, alberghi, non è quella del pre-covid. C'è molto interesse per le località di mare, l'estero, soprattutto le capitali europee. Ci stiamo muovendo anche molto su soggiorni, fai-da-te nel senso il volo più l'albergo organizziamo. Quali sono le mete preferite? Allora, per quanto riguarda l'Europa, ok, le isole del Mediterraneo, l'Italia, Sardegna, Sicilia, la fanno da padrona ovviamente, però quest'anno abbiamo riscontrato anche la voglia proprio di visitare, c'è quindi fare dei tour itinerari anche in Europa, tipo il Portogallo, la Spagna, piuttosto che il nord della Francia, anche tour tutti organizzati in pullman e poi abbiamo avuto di nuovo finalmente il ritorno di Australia, Giappone che ancora erano dei paesi che erano chiusi da dopo il covid. L'Italia va sempre molto, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, dico la verità, da quando sono qui poco, però Sicilia e Puglia hanno sempre un ottimo interesse, insomma piacciono molto. All'estero invece? Estero, andiamo molto, come dicevo, Spagna, Portogallo, Inghilterra e poi sta piacendo molto la Turchia e un grossissimo interesse da un paio d'anni a questa parte sulla Giordania. Il periodo estivo è iniziato ma la voglia di godersi le vacanze per gli italiani si scontra con la pioggia di rincari con cui è necessario fare i conti. Gli aumenti riguardano vari settori ed è sempre più difficile spostarsi con serenità. Ci sono stati dei rincari rispetto alla scorsa stagione? Purtroppo sì, sia a livello di pullman che biglietteria aerea e di conseguenza poi tutti gli alberghi perché comunque sia è aumentato tutto. Ovviamente dobbiamo combattere ogni giorno con la ricerca della tariffa migliore. Sui voli abbiamo visto delle tariffe, soprattutto quelle del lungo raggio, ma anche quelle del medio raggio se non acquistate con largo anticipo, ma anche perché diciamo che dalle nostre zone vuoi o non vuoi il brutto e il cattivo tempo lo fa la Ryanair perché per quanto riguarda l'Europa i collegamenti sono tutti loro Bologna, Ancona, aeroporti qui vicini. Noi non siamo a Milano quindi ci dobbiamo fidare a loro. Se si prenotava prima si trovavano dei prezzi decorosi, oggi un biglietto può costare anche 600 euro che è una cifra folle. Anche Pesaro per l'estate 2023 accoglie turisti provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo. Come sta andando la sua estate? Molto bene, siamo arrivati una settimana fa e ci piace molto, stiamo andando molto bene. Da dove venite? Dal Canada, da Montreal. Perché avete scelto Pesaro? Perché è una bella città, mi sento veramente che è come l'italiana che conoscevo una volta, che è molto più familiare, comoda, ha meno turisti anche che vengono dall'estero e mi sento bene. Secondo anno che veniamo qui nel Pesarese ci siamo trovati molto bene il primo, talmente bene che siamo rivenuti un'altra volta. Perché avete scelto questa città? Cosa vi ha colpito particolarmente? Guarda, l'elenco è molto lungo perché ci ha colpito la vitalità, gli spettacoli, a volte la gratuità degli spettacoli, cosa che in altre città magari è più complicata. I ristoranti non dico di no, la comodità di Pesaro che puoi girare a piedi un po' dappertutto, la parte molto bella questa pedonale. Il mare pure è bello, va bene, sì si sta bene, i bambini si divertono, quello è l'importante, almeno i genitori si rilassano, tutto ok. Da dove venite? Da Viterbo. Perché avete scelto Pesaco? Ma veramente era una tappa che io facevo da bambino, ci sono cresciuto, quindi adesso sono 90 anni che non tornavo, con i bambini di cosa che c'è, proviamo. Cosa ti ha colpito particolarmente di questa città? La tranquillità, è calmo, se sta bene. Da Vicenza. Perché avete scelto Pesaco? Un consiglio di un collega, è stato qua due anni fa, mi ha parlato bene del posto e abbiamo seguito. Cosa vi ha colpito di questa città? La tranquillità e l'atmosfera da famiglia. Da dove venite e perché avete scelto proprio Pesaco? Veniamo da Bari e abbiamo scelto Pesaco per l'Ulissa Fest, quindi insomma siamo oggi, stiamo esplorando, iniziando ad esplorare la città per la prima volta, bellissima, veniamo dalla casa di Rossini adesso, stupenda. Cosa vi ha colpito in particolare? Ci è tanta cultura, c'è da imparare tanto, infatti siamo andati adesso nella casa di Rossini e abbiamo ascoltato tutta la sua storia, adesso vediamo un po' cos'altro ci riserva. Ora passiamo alla cronaca perché questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Pesaro per soccorrere una 74enne caduta da un'altezza di 5 metri nel canale Genica, momentaneamente in secca. La squadra dei pompieri, giunta sul posto, è scesa nel canale insieme al personale del 118, raggiungendo l'anziano per le prime cure. Nel frattempo il personale con l'autoscala ha organizzato il recupero del malcapitato con la barella Speleo. L'uomo è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. La riforma nell'ambito sociale tiene il confronto politico, la decisione dell'assessore al welfare Dimitri Tinti, quale presidente della conferenza dei sindaci, di istituire una figura centrale a cui vengano riservate le decisioni. Ha dapprima sollevato la contrarietà del terzo settore e poi mosso una serie di critiche da parte di tutte le forze dell'opposizione. I primi ad insorgere sono stati i socialisti. Vediamo il servizio curato da Massimo Foghetti. La ristrutturazione dell'ambito sociale numero 6 è un processo importante di innovazione che avvicina sempre più il terzo settore a questo importante modulo della vita politica e sociale del nostro territorio. Tiziano Busca c'è qualcosa che non va, però soprattutto per quanto riguarda la gestione. Ma non va, non lo dicono solo i socialisti, lo dicono le associazioni di volontariato che hanno mandato una nota ai sindaci, ai consiglieri comunali dei comuni che fanno parte del nostro ambito sociale perché il modello che è stato scelto è un modello che li esclude sia dai tavoli di rappresentanza sia dal modello di gestione organizzativa e soprattutto è una tipicità tutta fanese che non risponde ai loro bisogni e per cui la proposta che viene fatta è una proposta di riflessione, non è una proposta ostativa alla necessità di arrivare ad un diverso modello. Quello che noi come socialisti sosteniamo è che questo progetto trovi risposte di confronto all'interno delle istituzioni, il Consiglio Comunale di Fano ma anche degli altri consigli comunali coinvolgendo le associazioni di volontariato le quali hanno titolo pieno perché questo è previsto dalla legge del terzo settore a confrontarsi su questi elementi. Ecco a questo proposito avete rivolto anche un invito, un invito agli stessi consiglieri comunali. Sì, noi abbiamo rivolto questo invito perché quello che doveva essere svolto anni fa secondo un indirizzo del Consiglio Comunale di Fano dall'assessore al welfare non è stato fatto cioè un dibattito sulla scelta del modello organizzativo e sulla base di quello che doveva essere la struttura che veniva data all'organizzazione dell'ambito sociale. Noi l'anno scorso l'avamo fatto come socialisti per portare un contributo attivo perché ci rendiamo conto che è un tema molto complesso dove nessuno ha la verità in tasca però questo non è stato sicuramente prestato degno di attenzione da parte dell'assessore dell'amministrazione comunale di Fano e i nodi poi alla fine come si dice vengono al pettine perché portare avanti un modello contro le realtà del mondo associativo la maggioranza delle realtà del mondo associativo, badate bene, sono quelle realtà che sono il capitale sociale dell'impresa sociale che invece le cooperative, l'impresa sociale sostiene il modello che è stato proposto perché evidentemente non si rendono conto che questa frattura a livello di realtà associativa di base è molto dannosa ma soprattutto perché i coloro oggi pensano di aver raggiunto il risultato sperato cioè quello di andare alla gestione. Quindi no a un organo monocratico, qual è la vostra alternativa? No a un organo monocratico sia ad una rappresentanza come è nella realtà di Iesi che è il primo modello che è stato attivato di valore sia ad un osservatorio che sia il contrappeso che faccia analisi su quelli che sono i risultati di gestione quindi un osservatorio interno e non un unico revisore dei conti il quale non ha sicuramente la competenza di misurare i risultati dei progetti avrà la competenza di misurare i risultati dei conti e quello che c'è di brutto è che noi la chiamiamo azienda un'azienda significa parità nella gestione dei costi e dei ricavi questo nel mondo del sociale è di una gravità estrema perché allora se parliamo di azienda non capendo che cosa portiamo dentro questo mondo di bisogni dovremmo dire chiudiamo gli ospedali perché costano più di quello che noi abbiamo la possibilità di gestire quindi è un tema che non può essere visto soltanto come un fatto ideologico nei bisogni, nella salute, nelle necessità delle persone l'ideologia vale poco, vale molto l'umanità e la risposta di servizio che deve essere garantita e tutto questo attraverso un patto di cittadinanza il patto di cittadinanza è la chiave, è il manifesto in cui tutti ci si riconosce con le regole, i diritti e i doveri per gestire il tema della integrazione, della complessità, dell'inclusione di tutto ciò che è l'ambito in cui l'elemento centrale è un qualcosa di straordinario che è l'uomo sorpreso e amareggiato è questo il commento di Luciano Cecchini presidente degli alberghi consorziati in relazione alle dichiarazioni rilasciate dall'assessore Etienne Lucarelli amareggiato ha spiegato Cecchini per la durezza dell'intervento è sorpreso perché pare dimenticare il grande lavoro che insieme alberghi consorziati e comune hanno svolto per il turismo della città di Fano la cooperativa alberghi consorziati si precisa in una nota nonostante le criticità del periodo post pandemia ha fatturato un totale di 234 mila euro per l'anno 2022 portando circa 12 mila presenze siamo un interlocutore credibile per il mondo delle imprese e fino a prova contraria lo siamo sempre stati anche per le amministrazioni comunali con cui abbiamo collaborato riteniamo ha poi aggiunto Cecchini che con l'obiettivo di ritornare ad ad operare unitariamente per il bene del turismo fanese siano necessarie da parte dell'assessore dichiarazioni in senso contrario a quelle pubblicate a Fano in arrivo dalla regione una pioggia di contributi per finanziare eventi iniziative culturali e mostre il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi è soddisfatto dell'esito dei bandi regionali sul turismo e sulla cultura che hanno premiato Fano con il finanziamento di una serie di importanti iniziative nei due ambiti la regione ha spiegato Serfilippi investe complessivamente 150 mila euro oltre che sul carnevale e la Fano dei Cesari per i quali è previsto un finanziamento di 40 mila euro ciascuna anche a supporto di Pandolfaccia, Festa del Mare e Boomerang, paese dei balocchi e birra d'augusto in ambito culturale un finanziamento con 40 mila euro per quanto riguarda il passaggi festival ritengo molto significativo ha proseguito il consigliere il finanziamento di 50 mila euro a Pietro Perugino a Fano un'esposizione che avrà un rilievo in ambito regionale e nazionale. Infine il Cinefortune è risultato tra i festival cinematografici finanziabili con 12 mila euro. All'interno delle graduatorie dei bandi sono presenti altre manifestazioni ed eventi che troveranno un finanziamento a seguito dell'assestamento di bilancio e allo scorrimento delle graduatorie. D'altra parte per la capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale le cifre appena elencate non bastano per la terza città delle Marche. Il Carnevale di Fano ha precisato Ruggeri quest'anno avrà 10 mila euro in meno rispetto agli anni scorsi. Passaggi festival ne ha avuti addirittura 50 mila in meno. Il cinquantenario dell'incontro internazionale polifonico città di Fano e il centenario della fondazione del gruppo amatoriale musicale Musica Arabita nonostante le osservazioni che ha fatto a fine 2022 ad oggi hanno un finanziamento di 0 euro. La rassegna terre sonore invece ad oggi non risulta neanche finanziata. Ci vuole coraggio ha concluso Ruggeri a fare propaganda in ambito culturale da parte di Sir Filippi. Prima di esultare si rimpinguano le risorse a disposizione del settore. E ancora tutto tace dopo la richiesta promossa dal Movimento 5 Stelle di Fano e poi sottoscritta da altri consiglieri comunali di convocare una seduta monotematica sulla sanità in vista dell'approvazione del piano socio sanitario da parte della regione. Per questo oggi i pentastellati hanno sollecitato nuovamente la convocazione del Consiglio altrimenti si rivolgeranno al prefetto. Tommaso quando avete protocollato la richiesta di convocazione di un consiglio monotematico sulla sanità e quali sono stati nel frattempo gli sviluppi? Dunque noi l'abbiamo protocollata già lo scorso 24 maggio. C'erano 20 giorni per poterla convocare. Abbiamo concesso un po' di flessibilità alla presidente del Consiglio perché chiedevamo anche la presenza del presidente della regione Acquaroli dell'assessore alla sanità Saltamartini affinché appunto il Consiglio potesse fare le proprie proposte in presenza dei massimi esponenti regionali in fatto di sanità. Purtroppo questo Consiglio ancora non si è riuscito a convocare e la regione nel frattempo il Consiglio regionale attraverso le commissioni sta andando avanti con l'esame del piano socio sanitario che è il più importante atto di pianificazione dei servizi sanitari nella nostra regione e addirittura da quello che sappiamo già la prima settimana di agosto dovrebbe arrivare alla votazione finale. Quindi quello che noi chiediamo è che il Comune di Fano, terza città delle Marche, possa esprimersi, dare il proprio contributo prima ovviamente di questa scadenza perché altrimenti la considereremo una grandissima presa in giro. Quali sono gli argomenti più importanti da trattare secondo voi durante il Consiglio? Le questioni aperte in tema di sanità sono tantissime, i cittadini fanesi lo sanno molto bene. Innanzitutto il futuro del nostro ospedale del Santa Croce in termini di reparti, di servizi e di eventuali spogliazioni che speriamo di poter scongiurare. Il futuro dell'ex ospedaletto con l'istituzione del nuovo hospice per le cure palliative pediatriche. Il mantenimento a pieno regime della guardia medica che ultimamente come abbiamo visto un po' boccheggia nonostante la grande dedizione del personale sanitario e dei medici. La seconda ambulanza del 118 anche in orario notturno che purtroppo nella nostra città manca nonostante ci troviamo in estate ovviamente l'afflusso di turisti aumenta la popolazione. Ovviamente qualora il Consiglio Comunale non venisse convocato nei termini previsti da regolamento comunque il prima possibile noi saremo costretti a rivolgerci al prefetto ma ci auguriamo di non dover ricorrere ovviamente a questa istituzione, ci auguriamo di poter tenere questa seduta il prima possibile perché la sanità è uno dei temi assolutamente più sentiti dalla popolazione e crediamo che la terza città delle Marche abbia buon diritto come già ha fatto Pesaro di poter dire la propria davanti alle massime istituzioni regionali. Sta per essere sostituito il sistema di controllo degli accessi al centro di raccolta differenziata in via dei Platani a Fano. Per questo dovrà restare chiuso da lunedì 17 a venerdì 28 luglio. La riapertura quindi è prevista già da sabato 29 con il ripristino totale dei servizi. Nel frattempo rimarranno aperti gli uffici per la consegna dei sacchi e la sostituzione dei bidoni tutte le mattine dalle 8 alle ore 13 ma sarà consentito soltanto l'accesso pedonale dall'ingresso della pesa a ponte. Durante il periodo dei lavori gli utenti potranno fare affidamento sul centro raccolta differenziata di Colli al Metauro in via del Laghi 18 H dove sono state predisposte delle aperture straordinarie. Continua a ritmo serrato il programma della Fanum Fortune, la Fano dei Cesari dopo la cena spettacolo di stasera in vesti romane. Domani sabato 15 luglio la manifestazione inizierà alle 17 e 45 con la falange oplitica di Sparta a cura del gruppo storico Simmachia e Lenon. Alle 18 apriranno gli accampamenti nell'area del Pincio e alla San Michele mentre alle 19 grande attesa per i Ludi Fortune la sfida di spettacoli ed esibizioni delle quattro fazioni cittadine sul tema delle feste e delle cerimonie di Roma Antica. Alle 20 nell'area San Michele sono in programma spettacoli nell'antica Domus Romana mentre alle 20 e 30 ci sarà la grande festa delle fazioni in costume romano Baccanaglia. La serata proseguirà alle 21 e 45 nell'arena del Pincio con De Amicizia uno spettacolo di ricostruzione con luci, suoni e danze a cura della colonia Uglia Fanestris. Saranno i Ludi Gladiatori alle ore 23 a chiudere in grande stile la giornata dedicata alle rievocazioni e alle battaglie. L'accesso alle tribune per gli spettacoli del sabato e della domenica e a pagamento tutte le informazioni le trovate su live-ticket.it. Vi ricordiamo che Fano TV domenica sera trasmetterà in diretta dalle 19 e 30 circa la sfilata delle frazioni con circa 2000 figuranti e la corsa delle bighe. In occasione della giornata conclusiva della Fano dei Cesari domenica 16 luglio il sindaco di Fano Massimo Seri ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone il divieto di vendere bevande in bottiglia di vetro in tutto il centro storico in un raggio di 200 metri dalla zona del Pincio. Per la stessa area escluso all'interno dei pubblici esercizi è vietato anche possedere bevande in contenitori diversi dalla plastica. Inoltre è vietato usare botti, petardi o fuochi d'artificio di qualunque tipo e dimensione. L'ordinanza resta in vigore dalle ore 18 alla mezzanotte. E ora passiamo agli eventi, continuiamo a parlare degli eventi perché dal 22 al 30 luglio prende il via la 31esima edizione di Fano Jets by The Sea. Tanti i musicisti e i concerti in programma in diversi luoghi della città e non solo. Sentiamo tutti i particolari nel servizio curato da Filippo Pucci. Con nove giorni di festival, 45 concerti, 200 musicisti provenienti da tutto il mondo e diverse location, torna la 31esima edizione di Fano Jets by The Sea, l'evento dedicato alla musica Jets dal 1993. Alla Rocca Malatestiana di Fano il direttore artistico Adriano Pedini ha elencato il nutrito programma di iniziative che vanno dal 22 al 30 luglio. Sparà un'edizione caratterizzata da nove giorni di musica, 200 saranno i musicisti e nelle varie località più suggestive di Fano, a partire dalla Rocca Malatestiana, a Bastione San Gallo, all'Anfiteatro Rastat, al Parco Golena del Furlo e tanti locali della città. Cinque sezioni, la sezione main stage con i concerti principali alla Rocca Malatestiana, sul palco della Rocca Malatestiana con grandi nomi, a partire dal nostro Gianluca Petrella, ma poi avremo la sassofonista La Kesha Benjamin, Stanley Clark, Donny McKesslin, pianista Fergus McCready, la bassista Manu Gallo, il meglio dei musicisti a livello internazionale, questo per quanto riguarda il main stage. Poi avremo la sezione young stage, la sezione riservata alle giovani formazioni italiane, la sezione cosmic journey dedicata alla sperimentazione dell'elettronica e la sezione exodus stage che sono dei solo concert che vogliono mettere in evidenza un po' il problema della migrazione e per ultimo live in the city, questi concerti diffusi nella città, fra cui ricordo il concerto all'alba del 23 e la P-Funky girerà per tutta la città. Poi ci saranno anche delle attività collaterali, film, documentari, mostre fotografiche, ci saranno degli dialoghi, degli incontri sul mare e per ultimo, ma non per ultimo, bisogna ricordare quello che è il segno identitario, l'anima del festival che è il Green Jazz Village, dove noi pratichiamo tutte quelle azioni per la sostenibilità di un festival, per renderlo sostenibile. Anche qui ci saranno tutta una serie di attività, una delle principali sarà l'attività didattica rivolta ai giovani, con una formazione di un'orchestra di 50 elementi, ma ci sarà anche un'aria chill con il food e il beverage, ci saranno attività ricreative. Il programma completo dell'iniziativa e i biglietti d'ingresso sono disponibili sul sito dell'evento. www.fannogiazbydc.com e i biglietti sono già in vendita online su Viva Ticket e al botteghino del Teatro della Fortuna. Nella spredida cornice di Villa Berloni a Candelara si svolgerà l'evento Galà di Beneficenza Romagna nel Cuore. Il ricavato delle due serate in programma sarà devoluto alla protezione civile della Romagna. Tutto pronto per l'evento Galà di Beneficenza Romagna nel Cuore. Due serate da non perdere in programma martedì 18 e mercoledì 19 luglio dalle ore 20 nella splendida cornice di Villa Berloni a Candelara. A presentare l'evento il presidente della Proloco di Candelara, Lorenzo Montesi. Due serate da devolvere totalmente in beneficenza, concentrate sul folklore con tanti bravissimi artisti e appunto che avremo nella serata di mercoledì questi artisti che gentilmente si sono concessi a venire nella splendida cornice di Villa Berloni affinché si possa fare una serata di livello che possa essere piacevole, gratificante e che ci possa dare la possibilità di raccogliere più fondi possibili per questo territorio in difficoltà. Siamo partecipi di questo progetto, devo fare i miei complimenti alla Proloco di Candelara, anche al quartiere di Candelara. Questo è un bellissimo messaggio che viene mandato anche nei confronti dell'Emilia Romagna e dell'alluvione che è avvenuta, ma non solo. In questo modo loro hanno preso tutte e due le cose per far divertire i cittadini, ma anche valorizzare il borgo di Candelara e devo dire che come quartiere o anche come Proloco lavora benissimo, anche perché l'abbiamo visto con le Candere a Candelara è uno degli eventi più belli nella città di Pesaro. E una cosa la voglio dire, nei quartieri noto di periferia si fa comunità. È in programma nel corso dell'evento una serata dedicata alla musica e in particolare alla danza. Diverse scuole di ballo porteranno insomma i loro allievi anche da Ancona, quindi non solo nel Pesarese e noi ci metteremo tutta la nostra allegria, vivacità e faremo ballare tutti chi vorrà partecipare a 360 gradi, quindi dai balli di gruppo all'Iscio al Caraibico e quindi io ringrazio tutti i miei colleghi che hanno aderito con me a questa iniziativa. Queste due serate saranno interamente devolute in beneficenza a questi territori. Abbiamo già avuto contatti con la protezione civile, con l'amministrazione comunale, in questo caso di Ravenna affinché direttamente già da giovedì saremo pronti e disponibili a incontrarsi e devolvere interamente questo introito di beneficenza totale delle due serate. Quindi credo che sia importante partecipare perché il senso civico, il senso di responsabilità con una mano sul cuore direi che sono iniziative forse uniche, più uniche che rare. Tra poco trasmetteremo un approfondimento in studio dedicato alla festa della Crescia Matta e Oca in Porchetta che torna ai Tre Ponti di Fano dal 21 al 23 luglio. A seguire andrà in onda uno spettacolo del Fossombrone Teatro Festival. Vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni al 338 49 68 250 oppure tramite il gruppo Facebook Reporter di Strada by Fano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Buona segata.